Ieri è stata sgominata una cellula terroristica islamica che operava in Lombardia e in Piemonte. Questa cellula terroristica arruolava combattenti in Lombardia, tra cui anche un cittadino tunisino comasco. Questo è il simbolo e il segno di quello che la Lega ha sempre sostenuto, che il territorio comasco era ed è un territorio fortemente a rischio di terrorismo islamico. E' la conferma che quello che diceva la Lega mesi fa, cioè che serviva maggiore attenzione, più monitoraggio, più forze dell'ordine e un contrasto forte al terrorismo islamico anche nella provincia di Como, era vero. Oggi si accorgono che le battaglie della Lega erano battaglie assolutamente giuste. Chiediamo al ministro Alfano, totalmente incompetente e totalmente inadeguato a gestire questo fenomeno, di considerare il forte rischio terrorismo presente in provincia di Como. Servono più uomini, serve un immediato stop all'immigrazione clandestina, serve un'immediata moratoria sulle moschee, soprattutto in provincia di Como. In poche parole serve più sicurezza e meno accoglienza.